Non è facile come sembra. Faranno di tutto per fermarti. Ma devi proseguire. A qualunque costo. Ci hanno fatto pezzi. Hanno frantumato la nostra società. Fai 30, Sam. Non sai cosa c'è in palla. È l'unico modo per salvarla. Le mie mani. Mi chiamo Sam Porter Bridges. Il mio compito è riconnetterci. E' unico modo per che te stai in un'immagine giusto. Grazie a tutti